Questa è proprio una missione per i cuccioli. E che di voi ha paura? Ci ho da neanche! Arrivano finalmente al cinema. Per sorprendervi e divertirvi, portatene. Holly, Diva, Cilindro, Pio, Senzanome e altri fantastici personaggi. E ci penso io, con una mano alla bussola e con l'altra alla sveca. Cuccioli, il codice di Marco Po dal 22 gennaio al cinema. Cuccioli, il codice di Marco Po dal 22 gennaio al cinema.